Ciao a tutti, io sono Martina, Alice22L e benvenuti in questo nuovo episodio della Not So Berry Challenge Allora, come vedete siamo con Eleonora e Shingo Da quanto tempo è che non li vedevamo insieme, loro due? Era da un po' effettivamente e visto che con Ginger, avete visto che siamo andati avanti, ha fatto il compleanno E resta soltanto il matrimonio in età anziana, quindi adesso programmeremo anche il matrimonio Con Sunny andremo avanti il martedì prossimo In modo tale che comunque ci fosse stato uno spacco fra le due generazioni In modo tale da tornare indietro da Eleonora e Shingo perché Eleonora deve ancora completare Cioè, lei ha finito la generazione, la generazione è stata completata Però ci sono rimasti degli incarichi al lavoro come quello di sintetizzare dei nuovi, questi qua Come caspe, dei sieri Ci mancano questi sieri qua Amicizia del metitore, Auraliene, mi sembra che ce ne sia un altro Solo che ci servono degli ingredienti, ci serve il fiore della morte Questo è un bel problema, mentre qua ci manca una qualsiasi pianta aliena Quindi basta andare su Sixam, raccogliere una pianta Solo che la volta che ci eravamo andati, se vi ricordate, se mi seguite dall'inizio Non siamo mai riusciti a raccogliere dei semi, o comunque dei frutti delle piante aliene Quindi magari ci riproviamo, visto che domani va al lavoro Ci riproviamo e vediamo un po' E qua per il fiore della morte ho fatto un sacco di ricerche Praticamente bisogna innestare l'orchidea e il melograno Solo che la melograno in teoria ce l'abbiamo Se non si è suicidata quando hanno inserito stagioni E l'orchidea invece serve la bocca di leone e il giglio Ma la bocca di leone si trova a entrambi, si dovrebbero trovare al parco Bocciallo di Magnolla di Willow Creek Quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare Ah ecco, l'ultimo che ci manca di siero dovrebbe essere quello ringiovanente Comunque vediamo se man mano che facciamo delle scoperte Riusciamo a trovare questo ultimo siero Perché dovrebbero mancarci solo questi tre Quindi vediamo un attimo Intanto mi è arrivata una notifica che A parte questo Questo ok Manca poco la scomparsa di Eleonora Infatti come vedete qua Mancano pochi giorni Però vediamo perché se riusciamo a sintetizzare il siero ringiovanente Sapete che io voglio tenere tutti in vita Possibilmente Vediamo se riesco a sintetizzarlo Se no tramite i punti Che non ho Perfetto Vediamo se ce li ha lui Forse ce li ha lui Riusciamo a trovare Cioè riusciamo a far bere Il bicchiere Quello ripristina la vita Una cosa del genere Stessa cosa per Shingo Solo che Shingo è già In fase Evoluzione Il problema è che Non so fra quanto tempo mi lascia Perché lui è un po' da così È da un po' che è così In più ha il tratto attivo E il tratto attivo mi prolunga La vita al sim Quindi potrebbe succedere da un momento all'altro Quindi vediamo di scoprire questo ringiovanente al più presto possibile Comunque Andiamo Come minimo succede adesso Vabbè Shingo sta preparando da mangiare Vabbè dai Lascio fertilizzare Anche qua forse c'è da innaffiare tutto E sì Mentre Shingo Visto che lui è attivo Grazie Shingo che sei attivo Meno male che ti prolunghi un po' nel tempo Vediamo se c'è lavatrice No Qua come vedete C'era la stanza di Ginger Solo che l'ho adibita a Sanni Quel momento in cui vuole venire qua A dormire Dai nonni In modo tale che La stanza per lui c'è Ecco Di sopra invece abbiamo Il laboratorio Allo studio di Shingo Anche se lui dovrebbe Ecco Aumentarmi il carisma e la logica Potrebbe Aumentarmi il carisma e la logica Cos'era? Studia al fine di estrapolare informazioni storiche Giorno Eccola Ce l'ha fatta Vedete Ventunesima scoperta del siero ringiovaniente Ops Eccolo qua Quello che vi dicevo Vediamo cosa ci vuole Frutto con aculei Xenopettrio E qualsiasi cristallo alieno Aia Questo è difficile Da trovare Lo xenopettrio Dovremmo averlo Qua nella nostra collezione Non mi ricordo se faceva parte di questi No Di questi non fa parte Della collezione Quindi dovrebbe essere Un metallo Ah guardate Abbiamo la bocca di leone Benissimo Quindi Possiamo piantarla Non mi ricordo adesso dove ha i fiori Crisantemo Qua E qua Quindi possiamo Piantare Ah l'abbiamo già piantata la bocca di leone A dire la verità Wow Fantastico Ok allora Intanto che finisce Dopo mamma mia Deve andare a letto Al più presto Shingo invece Si deve divertire Però Non ti preoccupare Vai a letto E basta Insomma Domani mattina Ci troveremo al lavoro Insieme a Delonora In modo tale Da fare le ultime scoperte Che mancano E vede Cioè ovvero Le abbiamo trovate Le ultime scoperte Però Vediamo di Insomma Di Fare Gli ultimi seri Che mancano Allora Allora Siamo arrivati qua Al nostro Laboratorio Fantastico E dunque Allora Noi ce ne Freghiamo Come al solito Perché noi siamo Capi di noi stessi Quindi Vediamo di Trovare Aspettate Com'è che si faceva Analizza una collezione Questo qua Perché Mi serve Dello Xenopetrio E poi adesso Voglio verificare Per bene Cosa ci serve Per La Per i vari Sieri Allora Intanto Vediamo un po' Ci manca Questa qua Amicizia del Tristo Il Fiore della Morte Quindi magari Andremo Sabato Che è domani In giro A cercare Il Gli Proviamo invece A fare questo Quindi qualsiasi Piantagliene Ci serve Per andare Su Sixam E qua Lo Xenopetrio Ci serve Per Il Siero Ringiovanente Quindi vediamo Se troviamo Lo Xenopetrio Direi di andare Su Sixam E vedere Di prendere Qualsiasi Pianta aliena E il frutto Con acule E qualsiasi Cristallo alieno In modo tale Da portarci avanti Niente Pirite Proviamo A analizzare Una collezione E Com'è che si faceva A estrarre Com'è che si faceva Forse Devo inviarlo Al consiglio Sapete che Non mi ricordo Più Il blu tonio Sì Proviamo 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 a chiamare Il consiglio Forse era così E allora Niente Andiamo su Sixam Vediamo cosa ci dice Il consiglio Se è presente Xenopetrio Stasera quando torniamo A casa Lo inviamo È composto Da una combinazione L'Xenopetrio E Plattio Perfetto Allora Niente Andiamo Sul mondo alieno A cercare I frutti con aculei Delle piante Insomma dopo Ritorniamo nel taccuino E verifichiamo Ci serve No Non posso usarlo Allora Mi ricordo Ci serviva Dei Ah giustamente Non c'è connessione Va bene Allora Ci serviva I loro cristalli Quindi raccogliamo Quelli che possiamo Raccogliere Salve E poi Frutti Con aculei Tipo anche Questa è una pianta aliena Prendi germoglio Proviamo a prendere Il germoglio Magari innestarlo A casa Vediamo Eccolo qua Il frutto con gli aculei Prendiamo il germoglio Perché Non me lo fa proprio Raccogliere C'è soltanto Dei campioni Per il microscopio Niente Dunque Dovrebbe essercene Un altro Eccolo qua Questo Un'altra pianta Che è questo Prendiamo il germoglio Allora Vediamo se abbiamo trovato Quello che ci serviva Allora Amicizia del tristo Qualsiasi cristallo È sempre quel benedetto fiore Qualsiasi Qualsiasi pianta aliena Quindi dobbiamo Farlo A casa L'oxenopetro Dobbiamo Inviarlo E qua Qualsiasi cristallo alieno No Non abbiamo trovato niente Ma scusate Per cristallo alieno Cosa intende? No Forse è questo Il Crandestinio Dai Proviamo Proviamo Vediamo se Ci dice due Cloniamo Tra l'altro Ci dà la fama Va bene Allora Proviamo a far così E a vedere Se adesso ci dice due Perché se ci dice due Io lo clono ancora Metti che ci serve Eh Ma dimmi Ti era quello Proprio Quindi ho fatto Un giro a vuoto Oddio Ho fatto Vabbè No Un giro a vuoto No Perché comunque Ci siamo presi I nostri Le nostre piante I nostri innesti Quindi Boh Non saprei proprio Vabbè Comunque Le nostre cose Qua ce le abbiamo Adesso Allora Facciamo le nostre Belle cosine Quindi Prima cosa Prendiamo un po' Di avanzi Da mangiare Anche tu Shingo E poi Sì 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 Vieni vieni E poi Chiacchierate un po' Perché comunque Avete bisogno Entrambi Di chiacchierare Quindi Magari Chiacchierate un po' Anche se a distanza Però Dai Non succede niente Complimento Sincero Complimentati Per l'aspetto Ovviamente Si devono sempre alzare Per abbracciarsi O darsi un bacino E glorifica i vantaggi Del vegetarianismo Poi Condividi le insicurezze Almeno Va su un po' La barra Lamentiti Della dimensione Della tv Poi Condividi un segreto No Però facciamo Amichevole Chiediamo di un altro sim Gli chiediamo Di Ginger No Di Mattia Visto che si sono Separati Divorziati Neanche divorziati Perché non saranno Neanche sposati Vediamo un po' Cosa ne pensa Di Mattia È piuttosto in gamba Sì Benissimo No testa al sino E invece Se gli chiediamo Di Sanni Vediamo cosa chiede Di Sanni Cosa ci dice Di Sanni Vediamo un po' È piuttosto in gamba Perfetto Non si sbilancia Molto Devo dire Dice sempre Le stesse cose Shingovaletto Allora Vediamo di Innestare Le piante Che però Sinceramente Non saprei come Perché Lì c'è l'innesto Quindi Allora Proviamo Proviamo a innestare Le piante Tipo Piante di spinaci Proviamo a innestare Con la pianta Aliena polipo Ok Proviamo Poi Cos'altro Possiamo innestare Tipo il prezzemolo Frutto con aculei Sblocca un nuovo tipo Di pianta Con gli innesti Ok Elementare Ok Abbiamo raggiunto Forse queste però Le avevamo già raggiunte Perché Eh sì Infatti Erano anche L'obiettivo Della challenge Quindi Ok Perfetto No Allora Facciamo Vendi Tutto Di questo qua Così Ricaviamo un po' Di soldi Intanto Sul giardinaggio Perfetto Livello 8 Bravissima Ok Poi dopo ti fai una doccia E Andiamo A letto Che domani Proviamo ad andare Al Al parco A trovare Il giglio Se lo troviamo Speriamo di Siva Allora Si sono alzati Intanto Shingo sta preparando La colazione In una veste Molto Insolita Quella che dovrebbe Utilizzare Quando va in Esplorazione Ma va bene Allora Laviamo il bucato Aspettiamo che Il toast Sia pronto E poi direi che possiamo andare Al bocciolo Al parco bocciolo Di Magnolia Si chiama Mi pare No? Si Che così Vediamo di trovare Questo giglio Benedetto Ok dai Discutete Insomma Chiacchierate Parla Parla di manualità Impara a conoscere E poi inviamo Il consiglio geologico Questo E dovrebbe essere Anche questo Ma non ne sono Proprio sicura Però Inviamolo lo stesso Dai Che così Dovrebbe arrivarci Però Domani Credo Non so se mi arriva Subito alle 10 Credo di no Uh Sono già cresciuti Perfetto Così possiamo Utilizzarli Per I nostri sieri Ottimo Fantastico È arrivato Al livello 2 Già un po' di nuvolo Magari ci cambiamo di abiti Perché sembriamo Dei pazzi Così Mettiti Vediamo No dai Mettiti questi I soliti Ok E andiamo alla ricerca Di questo giglio Dovrebbe essere qua Però Non so se la stagione è giusta Dimmi di sì Ti prego Però Anche un innesto Cioè un germoglio Mi va benissimo Se no Mi pare di averlo visto Anche a Newcrest Però Non vorrei Che Non fosse appunto La stagione giusta Mi sa che è proprio Sbagliato Proviamo ad andare A A Newcrest Ok Allora Vabbè Siamo qua Ai giardini Però io volevo Vedere qua dietro No Piante di cipolle Dunque Me li ricordavo Qua dietro Bocca di leone Però vedete che si può Prendere il germoglio Quindi nel caso Trovassi la pianta Cresciuta Potrei prendere il germoglio No Bocca di leone Madonna sto giglio Campanule Campanule Bocca di leone Fragole No Eppure io mi ricordavo il giglio Che c'era Come pianta Eccolo il giglio Ecco L'osserviamolo Dai Magari osservandolo Cresce un ottimo Ma la vedo dura Ciao Ciao bel giglio Vorresti crescere Per me Lo so che sei Di tipo selvatico Però ti prego Ti prego Vorrei che crescessi Vabbè Abbiamo scoperto Che qua Però Non è quello Che speravo Di trovare Quindi Niente Qua ci manca sempre Quel giglio Lì Qua Qualsiasi pianta Alliena Eppure Però L'ho recuperata No Frutto con aculei Noi cosa abbiamo Recuperato Di No Qua c'è del tulipano No Infatti Mi sembrava strano Che fosse già cresciuto No Infatti Dobbiamo aspettare Che crescano Quelle a casa Però Vediamo se Qua è arrivata Della posta C'è della posta Dimmi Ti prego Che sono loro Dimmi che è lo xenopetrio Bene Benissimo Quindi Io direi di Clonarlo Perché lo xenopetrio Ce l'abbiamo Ci serve soltanto Il frutto con aculei Vediamo un po' Di clonare Questo xenopetrio No Non posso clonarlo Non ci credo No Che tristezza Perché Ciao Ciao No dai Torna A studiare Il carisma Tu invece Guardati Un film Qua Cioè Guardati Un canale Comico Il solito Che così Mi Mi Tiri su almeno Un po' Il divertimento Comitato di benvenuto Ma no 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 Noi non siamo È È una vita Che siamo qua Cosa state dice Sì Lo so Lo so Ma io vorrei fare Questo coso Ringiovanente Lo so Dai Cos'è che ci manca Il frutto con aculei Se non cresce domani Ti prego Cresci Dov'è che l'abbiamo innestato Fiore zannuto Sarà questo Frutto con putta E Bacca globo Proviamo a parlare A questa pianta E a parlare A questa pianta Vedere se crescono Alla veloce Bravissima Bravissima Eleonora Brava Perché io non ti voglio Per Aiuto Vediamo già un inizio Di Vedete Eleonora Ginger E Sunny Vedete che Giustamente Non è Non è sposata Però vedremo Ah Ginger È Ginger Aiuto Ormai Faccio un po' di confusione Questi nomi Eleonora È un po' stanca Allora Proviamo A fare Una sorta Di Doccia Vedere se qua Crescono Ma mi sa che Crescono Nella notte E quindi Magari La mando a dormire Presto Che tanto Lei Ha Il tratto Quello Quello per la notte Quello per il sim Mattiniero Che quindi Non dovrebbe avere Problemi In quel caso Ecco Brava Ginger E dai Brava Eleonora Vai a dormire Allora Eleonora si è svegliata E vedete come Come è Animal Notturno Visto che è luna E si sono sviluppati E si sono sviluppati Questi E tra l'altro Una Eccola qua Fai evolvere Però qua Manco l'ombra Quindi vediamo Di prenderci qualcosa Da mangiare E aspettare Di nuovo Dai vi prego Eccoli 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 Ma questo cos'è Raccogli tutto Allora raccogli i fiori zannuti Gli altri dove sono Questi No raccogli tutto No Raccogli Oddio come si chiama Scusate Raccogli i prodotti Della terra Frutto con aculei Eccolo E anche questo Raccogli i prodotti Della terra Oh dai che forse Ci siamo Eccoli qua Quattro Due E mi mancano Gli altri Eccoli qua Tre E adesso possiamo Fare la super vendita E allora Andiamo a sintetizzare Dov'è qua Sintetizzare Lei si è già vestita Da pazza Ah ci manca anche questo Profumo di rosa Accidenti No ragazzi Aspetta Anche quello Do ci manca Dunque Dov'è Fortuna Ringiovanente Anche Laura Aliena Possiamo farlo Ok Allora intanto Facciamo Ringiovanente Che ci serve Per Eleonora E soprattutto Anche per Shingo Dopo Quindi magari Ne creiamo due Quindi probabilmente Ce ne servono Tre Da inviare Il consiglio No Però prima Lo clono Perché mi serve Da aggiungerlo Alla nostra collezione Qua Ok Sperando che sia buono Ok Vediamo Sì Si è ripristinato Tutto Devo sintetizzarlo Di nuovo Quando Non ti viene Ecco Vedi no Infatti ci serve Lo xenopetrio Per Shingo Allora Niente Aspettiamo La posta Delle dieci Fare un altro Siero E vedere Se riusciamo A clonarlo Quindi diciamo Che ha avuto successo E Vasta Insomma Meglio così Niente Allora dai Proviamo A tornare A Newcrest A vedere Se è cresciuto Il giglio E in tal caso Niente Magari giocherò Nei vari giorni Successivi Io E poi Magari Vi aggiorno In un In un Prossimo Episodio Piove A dirotto Piove Veramente A dirotto Vabbè Siamo alla spa Però a noi Ci interessa Meno Vedete Che non Cresce Perché Non Cresce Allora Mi sa Che non Possiamo Fare Niente No Perché La bocca Di leone Ok Però Mamma Mia Che Fastidio Ciao